buon ciao aiuto benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno della rete con tanta bella gente ciao sono nicky tricky un bellissimo sboosting del 151 con 4 set allenatore targati snorlax top personale vabbè non vogliono scegliere il mascotte migliore bellissimo a nintendo escono le promo bellissimo escono le promo e riuscivo le prime dati e tanto altro andiamo a vedere no 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 lo facciamo una testa Questa è di carta, questa volta. Questa è di carta. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccola, bellissima. Dov'è Snoclax? Aspetta. Dov'è Snoclax? Bellissima. Metti in centrale. Non è bello. Dadi. Mette. Bellissima. Ah, dimmi, fai una paglietta così per la combi. E poi l'energia, il portatec, il portatec, il portatec e i dati. Quante bustine escono, Nichi? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Nove bustine, la prova del nove. Adesso la provo tutta insieme, perché così è veloce, lo facciamo solo. Questo è il mio che ha da fare dopo. Io incomincio. Io incomincio. Io incomincio. Guarda, quello tuo c'è. Questo è il mio. Quindi qual è la quale parte? Iniziamo? Ah sì, dei titoli. Prego. Andiamo. Iniziamo. 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 Benda rigida. Oh, bella Benda rigida. Oh, bella Benda rigida. Molto. Posso vedere? Sì, vedi, grazie. Poi vedete la bustina. Oh, che bello. Uno squirtle. Oh, bellissimo. E qua troviamo tante cose. Io ho fatto un'altra. Attacchia. Tancchia, bellissima. Queste ce le sono fortunate. Se ne trovano tante di cose. Tancchia come? Ah, ok. Tancchia, bellissima. Ah, ok, ok. Ok, perfetto. Queste sono le nostre. E io ho avuto. Ah, Nietales. Bellissimo, Ditto. Bello, Nietales. Bellissimo, Ditto. Bellissimo, Ditto. Bello, Nietales. Ditto. Eh, a me mi sono tanto dito. Se nascosto. Oh, vedi che è bello. Se nascosto. Niente. C'è l'energia. Oh, bella. C'è l'energia. Se non c'è tutto muore. Lì. Lì c'è qualcosa, posso? No. No, niente. No, niente. Niente, niente. Energia. 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 Grande energia. Io niente. Tanta energia. È un Gengar bellissimo comunque. Il caputo sal fortissimo, Gengar. Gengar energia. Ma anche l'energia. C'è qualcosa? Ecco, la pizza a perapolo qua. La pizza a perapolo. Uh, l'energia. Sto tipo Charles. Se vuoi vedere, vecchia amra antica. Eh, bene. C'è, guardate. Vecchia amra antica. E sta energia bella. Ma non le stiamo vedendo noi? O pokeball e master ball ne stanno uscendo? No, dove c'è? 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 No, non è gelato. Guarda. Non cuica tanto di booster. Non cuica abbastanza. Mamma mia, ragazzi. È triste, eh? Sì. Dai. Oh, mio ex! Miux. Miux. Bello! Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo. Ehi. Fortissimo mio ex! Fortissimo! Qual è un ex? Lo ho trovato io. Qual è un ex? Ah, quello è forte, quello è forte. L'ho trovato io mio ex. Sono Nicola. Nicola. Guarda. Niki Triki. Com'è che? Niki Triki. Trasferimento di Bill. No, quello ho capito. Voglio cercare. Bello il trasferimento di Bill. Ah, sì. I vecchi giochi Pokemon in computer era di Bill. Niente. Eh, niente, neanche io. Stavolta questo... Oh, Ganga Scan! Oh! Questo è pesante? Questo è pesante, sì. C'è pesante. Aiuto, Ministro. Sì. No, vediamo. Ahahahah. Ogni a me. Ma come lo faccio? Si è pesante? Sì, non è bene. Ma dice che sono pesante? Ti tengo in braccia apposso, ti tengo in braccia. Pistaci, proprio. Uuuuuh, l'energia! Per ultimo pacchetto sono di aprile, si mi sto aspettando, guarda Stoic, guarda Stoic, bravo, ruba, imbroglia, che vogliamo fare? Ammazziamo la gente? Non lo so, che vogliamo fare? Oh, ti pego, ti pego, ti pego qualcosa, oh, capismo di Giovanni, Giovanni, ciao, ciao, Giovanni lo sa, Un palluccino gigante, vai, fortissimo, l'ultimo John, l'ultimo, l'ultimo, d'acqua, l'ultimo mio, le Nikki Piki, seguitelo, voglio che, ho la mia, ho la mia, ho la mia Messa a terra, secondo me non posso a terra, vai esci qualcosa, vai, stessi, stivi, mamma mia, ghen 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 ghen, c'è un altro video ragazzi ci vediamo al prossimo, grazie mille a tutti per l'ascolto, è il prossimo, è il prossimo, è il prossimo, è il prossimo, è domani, è forse domani alle 14 ve lo voglio.